un saluto un abbraccione dal vostro italo fifa gamer benvenuti in questo nuovo video come ben sapete lunedì dovrebbero uscire i toti io vi faccio vi faccio le previsioni del team dell'anno secondo italo chi saranno gli undici giocatori che saranno nella formazione titolare io al massimo avrò un margine di errore di due elementi ma al 90% saranno questi secondo me i giocatori che faranno parte della squadra dell'anno quindi ragazzi io vi invito ad iscrivervi al canale poi la confronteremo con la squadra reale quanti ne avrò azzeccati effettivamente quindi un like di supporto iscrivetevi al canale mamma mia commesso lo so che fra poco arriva a befana ma io so babbo e de natale quindi iniziamo subito dal portiere vi faccio vedere subito i candidati chi sono sono tekea cultua obrac loris alisson per me il portiere sarà loris proprio lui ecco qui l'abbiamo messo l'abbiamo messo come portiere adesso andiamo subito col terzino sinistro col terzino sinistro che secondo me sarà lui sarà il solito marcello marcello poi difensore centrale secondo me sarà sarà uno sarà varanna ecco qua ecco qua e l'altro sarà uno tra van dick e sergio ramos ma io metto sergio ramos come difensore centrale terzino destro ragazzi andiamo sulla destra per me ci sono due possibilità o mettere un difensore centrale che potrebbe essere umiti o chimico caravalla e io metto 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 proprio lui metto caravalla quindi terzino destro centrocampo ragazzi centrocampo non ho dubbi saranno cante l'altro centrocampista sarà luca modric e l'altro centrocampista sarà de bruin un po vediamo dove sta vediamo qua situazione de bruin sarà l'altro centrocampista l'attacco sarà composto secondo me da senza ombri ombra di dubbio ragazzi da mbappé cristiano ronaldo e messi ma se non sarà messi sarà sicuramente hazard o gritzman ma io metto messi ecco qua questa è la formazione la mia toti proiezione ecco qui la formazione che ve la faccio rivedere in porta san alloris marcello varanna ramos caravalla cantè modrici de bruin bappe ronaldo e messi quindi ragazzi ragazzi questa è la mia proiezione della squadra dell'anno dell'anno che uscirà lunedì sera non sapremo se uscirà noi difensori se usciranno i centrocampisti e gli attaccanti questo non si sa comunque questa qui è la mia proiezione di ciò che sarà la squadra dell'anno come vedete vedete ci sono tanti giocatori francesi tipo loris varanna cantè e ma per il fatto che che la francia è il campione del mondo poi c'è ronaldo che ha vinto la coppa campioni sta facendo pure un strepitoso campionato con la juventus messi non può mancare poi c'è modrici che pallone d'oro de bruin perché il belgio come potrebbe esserci pure azzata al posto di di messi e il belgio ha fatto un strepitoso mondiale poi i soliti terzini si il solito terzino sinistro che marcello è a destra effettivamente ci si dovrebbe stare o caravallo o chimico o la sorpresa potrebbe essere un altro difensore centrale che potrebbe essere uniti quindi ragazzi se questo tipo di video di vi piace lasciate un like iscrivetevi al canale un salutone un abbracione faremo pure un speciale calcio mercato oggi dal vostro italo fifra gamer io vi dico sempre ciao miau bau belli buona bevana a tutti che fra poco che arriva pure a bevana ciao ho detto ciao ciao ciao